Musica Ladri scatenati a Pasqua, furti in diverse case della provincia pesarese, la rabbia di una delle vittime o paura, confessato in legna, dobbiamo essere più tutelati. Il consigliere regionale Giacomo Rossi ha scritto alla prefettura e consigliato ai cittadini di fare rete sui social. Spratto a Pesaro, la famiglia Moniti si prepara a lasciare la casa venduta all'asta, si trasferirà da un parente in attesa del passaggio definitivo nell'abitazione presa in affitto in zona Loreto. Approvato il progetto esecutivo per la nuova scuola materna di Cucurano Carrara e per le due sezioni di asilo nido, sorgeranno entro il 2026 di fianco alla primaria inaugurata due anni fa. Musica Giovani meritevoli sul palco del Teatro della Fortuna per l'assegnazione delle borse di studio promosse dalla BCC di Fano, ospita il primario Moravito che, ragazzi ha detto, non abbiate paura, i mostri sono solo quelli che abbiamo dentro di noi, non ce ne sono di insuperati. Ad Alice Acciarri, Viola Cepetelli, Alberta Ferretti e Gianni Tangucci il premio circolo della stampa Pesaro 2023, ieri la cerimonia a Palazzo Montagna Antà. Scienza, dimagrimento e ipertrofia, gli argomenti della nuova puntata di Insalute che torna domani pomeriggio in diretta su Fano TV. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. In primo piano i furti messi a segno durante le festività pasquali, diverse le abitazioni prese di mira, tra cui quella di Ilenia Cori, derubata dell'oro di una vita. Su questi episodi è intervenuto il consigliere regionale Giacomo Rossi che ha lanciato un appello ai cittadini. Ci siamo assentati per qualche ora per passarla in un agriturismo di un amico, io, mia madre e i miei due figli. Abbiamo trovato praticamente la casa devastata. E' arrabbiata e sconvolta Ilenia Cori, residente a Mondavio da 2017, vittima di un furto subito il giorno di Pasqua nella propria abitazione lungo la strada provinciale 49. I malviventi hanno fatto irruzione forzando una finestra sul retro, hanno messo a soquadro le stanze e hanno rubato oggetti preziosi. E' da giorni che sicuramente eravamo tenuti diciamo d'occhio e questo, diciamo, me lo fa pensare l'atteggiamento del mio piccolo cane alla quale purtroppo ho dato poco peso. E questo, quando si è rientrati, lo scenario è stato veramente devastante. Io ancora sento a credere che ho vissuto tutto questo, che questo sia realtà, però purtroppo mi hanno ripulito di tutto, spogliato di tutto e intendo di tutto l'oro che avevo in casa, sia mio ma soprattutto quello di mia mamma, l'oro di una vita, regali, ricordi dei genitori, del padre, di mio padre che è morto, che non c'è più. Quindi ci hanno portato via proprio gli affetti, quelle cose che non ti vai a ricomprare perché non è la stessa cosa. Io ho paura, ho paura di stare in casa, ho un disagio profondo. Abbiamo paura io e i miei figli dal giorno di Pasqua che non dormo più, che non chiudo occhio. Ovviamente abbiamo chiamato subito i carabinieri che sono intervenuti, però purtroppo ad oggi capisci che non c'è una tutela, nel senso io faccio denuncia, i carabinieri arrivano, ma la cosa lì finisce. Molto probabilmente lì la cosa finirà. I malviventi non si troveranno mai, anche perché sappiamo con chi abbiamo a che fare, con persone che molto probabilmente sono anche già dall'altra parte del confine, che non sono più qua, perché non sono persone di qua. La proprietà privata va tutelata, dobbiamo essere tutelati e queste cose devono accadere il meno possibile. Durante le festività i ladri, approfittando dell'assenza dei proprietari di casa, hanno messo a segno furti anche in altri comuni della provincia pesarese. Sulla questione è intervenuto il consigliere regionale di Civici Marche, Giacomo Rossi. A seguito di questi numerosi furti avvenuti nei comuni di Mondavi, di Terre Roveresche, nel periodo pasquale, mi sono subito interessato ed ho inviato una lettera a prefettura per chiedere se e quali provvedimenti metteranno in atto per far fronte a questa grave situazione. Infatti, come rappresentanti politici, siamo spesso interessati dai cittadini che hanno paura di queste situazioni, chiedono maggiori controlli. Io ho anche invitato i cittadini a far rete, a scambiarsi le informazioni sui social per poter meglio controllare il territorio così come avviene in altri posti della nostra provincia e della nostra regione. Torniamo ora a parlare dello sgombro della famiglia Moneti dalla casa di Soria che è stata confiscata e venduta all'asta. In attesa che si liberi l'appartamento preso in affitto nel quartiere di Loreto, la famiglia ha deciso di trasferirsi da un parente, Marco Lonigro. La famiglia Moneti è pronta a lasciare l'abitazione di Via Persoria 53. Nessun lieto fine per una vicenda che ormai persiste da diverso tempo. Alessandro e la sua famiglia, nel weekend o al massimo nei primi giorni di settimana prossima, diranno definitivamente addio a quella che per diversi anni è stata la loro casa. I giornamenti non ne abbiamo di particolari, nel senso che stamattina dovrebbe venire il custode giudiziario alle 11 per comunque notificare la giornata di oggi. Non credo che venga con le forze dell'ordine, non lo sappiamo, però non penso ci sia oggi la consegna delle chiavi. Penso ci abbiano dato, abbiamo parlato, abbiamo avuto una riunione con il prefetto in quest'ora, ci hanno dato fino al weekend, i primi della prossima settimana, perciò noi ci stiamo muovendo già questa mattina con i vari smontaggi dei mobili eccetera e ci stiamo adoperando per cercare un box per appoggiare tutto il mobilio. Poi per la soluzione per noi stiamo valutando di trovare un posto per non dividere la famiglia in due, se si riesce altrimenti staremo in appoggio a coppie insomma. La famiglia Moneti si trasferirà momentaneamente presso l'abitazione di un parente in attesa del passaggio definitivo nella loro nuova casa in zona Loreto. Termina così una lunga storia che vede Alessandro Moneti, un ragazzo disabile ormai da nove anni a causa di un tragico incidente stradale, costretto a cambiare abitazione per almeno due volte. Una cosa lunga che non credo fosse utile in questo modo qua, però evidentemente c'è un modus operandi che va fatto in questo modo qui. Da una parte spero di sì, dall'altra penso di sì perché tanto comunque poi ci hanno dato, insomma, dobbiamo andare via, quindi prima o poi sarebbe comunque successo, però magari si sperava di riuscire a non dover fare uno spostamento in più, ci avevano chiesto se eravamo disposti, abbiamo detto di sì, comunque adesso non troviamo una soluzione, però se dobbiamo adattarci ci adatteremo, quindi insomma è la meno pezzo per il momento, dai. Cambiamo argomento, un nuovo plesso verrà realizzato a fianco della nuova primaria di Cucurano Carrara e ospiterà la scuola materna e due sezioni di nido. Sentiamo i dettagli nel servizio di Filippo Pucci. Ancora buone notizie per il mondo scolastico nella città di Fano. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo della nuova scuola materna di Cucurano Carrara che sorgerà a fianco dell'attuale plesso, inaugurato il 15 settembre del 2021 in via Biagi. L'edificio, che avrà una superficie di 1692 metri quadri, sarà moderno e all'avanguardia. Conterrà quattro aule per quanto riguarda la scuola materna, due per il nido, un'area di riflessione scolastica dove potranno essere preparati almeno 400 pasti. Questo naturalmente significa che potrà essere a messa a disposizione anche di altri poli scolastici. Un'aula proprio dove invece ci saranno due aule speciali. Una, che si chiamerà proprio Aula Magica, ha un volume a due livelli dove i bambini potranno fare tante attività ricreative. L'altra invece è proprio un'aula dove si farà psicomotricità. E una caratteristica, diciamo, di questo progetto è proprio che ogni singola aula ha il suo spazio verde pertinente, che è diviso da una pertica, ma i bambini potranno uscire ed accedere ad uno spazio proprio all'aria aperta. Qui ringrazio davvero i tecnici del Comune che si sono adoperati dalla prima ora a lavorarlo, perché è un progetto comunale, è un progetto molto difficile. Parliamo di un finanziamento di 5 milioni, 430 mila euro, di cui 3 milioni ci vengono dati dal Ministero, 2 milioni li abbiamo messi noi come Comune e successivamente per le maggiori spese ci sono stati finanziati altri 430 mila euro. Quando si parla di maggiori spese è perché ci sono delle persone dedicate oggi che sono addette a quello che è il discorso del PNRR, quindi tutti i finanziamenti ministeriali per i quali ogni giorno noi compiliamo tanti atti, che ci permettono di riuscire ad avere dei rimborsi e aggravare meno su quello che è il Comune di Fano. Io li ringrazio fortemente per il lavoro che stanno svolgendo, un lavoro serio di professionalità e di qualità per la nostra città. È un altro passaggio importante per completare le strategie dei servizi educativi nel nostro territorio, poi ha aggiunto l'assessore Samuele Mascarin, come in questo caso nei quartieri lungo la Flaminia. Due corpi di fabbrica importanti, uno dedicato in particolare alla refezione, con la produzione di 400 pasti ma anche con uno spazio di refezione a disposizione del polo scolastico da 180 posti e poi una struttura che ospiterà le attuali scuole dell'infanzia di Falcineto e di Cucurano e in più un nuovo servizio che oggi su quel territorio è assente, e cioè due sezioni di nido di servizi 0-3 anni che garantiranno un aumento della capacità di accoglienza dei nidi comunali su tutto il territorio comunale ma ovviamente in modo particolare in quei quartieri che fino ad oggi non hanno potuto fruirne. Una scelta importante, un investimento finanziario ma anche concettuale significativo che consente al Comune di Fano di migliorare non solo in quel territorio ma su tutta la realtà fanese l'offerta dei servizi educativi. E Samuele Mascarin si candida a sindaco della città di Fano puntando alle primarie del centro-sinistra per attivare un processo di partecipazione democratica come ha detto lui. Dopo il telegiornale trasmetteremo un approfondimento in studio condotto da Stefania Schiaroli in vista delle elezioni amministrative del 2024. Vi anticipiamo un breve estratto dell'intervista. Oggi abbiamo una grande occasione che riguarda in primo luogo il campo progressista fanese ed è quello di attivare un grande processo di partecipazione aperto, inclusivo, democratico che possa coinvolgere migliaia di cittadini e cittadini rimettendo a loro la scelta delle idee, dei programmi e anche dei candidati che meglio potranno interpretare, rappresentare e guidare il centro-sinistra alle prossime elezioni amministrative. Per questo è importante convocare il primo possibile elezioni primarie e costruire anche una nuova stagione di partecipazione in cui tutte e tutti possono dare il proprio contributo e cui insieme tutte le donne, gli uomini del centro-sinistra e del mondo progressista di questa città siano in grado non solo di scrivere una nuova stagione politica ma anche veramente una nuova pagina di storia per la nostra comunità. I tempi sono maturi e alcune scelte vanno fatte. Oggi, non domani. Al Teatro della Fortuna, la BCC di Fano ha segnato le borse di studio ai giovani meritevoli. Ospite della serata, il dottor Morabito che oltre a portare la sua testimonianza professionale si è esibito in acustico chitarra e voce. Sono 227 gli studenti premiati della Banca di Credito Cooperativo di Fano che ha segnato le borse di studio nella splendida cornice del Teatro della Fortuna. L'appuntamento ha visto protagonisti, figli dei soci o dei dipendenti della banca meritevoli e di talento, dell'ultimo anno delle scuole medie, superiori e dei corsi di laurea. L'iniziativa è intitolata Mirko e Monica Buttaroni, i neosposi di Lucrezia deceduti nel tragico incidente aereo sui cieli di Long Island nello stato di New York. Un dolore e una ferita insanabili per tutta la comunità, le niti solo da ricordo che BCC Fano perpetua dal 1997 con le borse di studio dedicate alla coppia. Vediamo che i ragazzi che si impegnano e ottengono risultati sono cresciuti nel tempo e anche questa volta vedo che c'è una crescita. Poi il riferimento a Mirko e Monica è stata la partenza perché da quando c'è stato, dall'inizio, Mirko era il nostro dipendente, Massimo Devuti, quindi... Loro purtroppo sono scomparsi nel 1996 ma il vostro pensiero è sempre rivolto a questa giovane coppia. Io ricordo benissimo perché l'avamo assunto e viaggio di nozze, adesso questa cosa ci è dispiaciuto moltissimo. Nel corso delle 27 edizioni la banca ha premiato 3.109 ragazzi per un contributo complessivo di quasi 1,3 milioni di euro. È un'occasione chiaramente di dare merito ai ragazzi ma anche di metterli in relazione tra di loro. Dai curriculum ho avuto modo di apprezzare tante competenze diverse e diciamo un legame comune con il territorio e spero anche con la banca attraverso i loro genitori. Durante la cerimonia sono state proiettate le video interviste realizzate a quattro laureati assegnatari della Borsa che hanno raccontato le loro storie relativa al percorso di studi e professionale. Ospite della serata il dottor Letterio Morabito direttore del reparto di neurochirurgia dell'ospedale San Salvatore di Pesaro che ha portato la sua testimonianza professionale. Se vi posso dire una cosa, la più grande paura è quella che avete dentro cioè quella di non riuscire a pensare di superare la difficoltà e i mostri sono solo quelli che abbiamo dentro di noi non ce ne sono di insormontabili o insuperabili quindi fate il vostro viaggio con la vostra aspirazione. Il medico appassionato di musica si è poi esibito con la chitarra. Emozioni, sorprese e sorrisi hanno accompagnato la cerimonia che si è poi conclusa con un buffet offerto ai partecipanti. Federico, anche tu hai scelto un percorso molto importante vogliamo ricordarlo a casa? Sì, ho scelto ingegneria perché comunque è un percorso interessante che offre tante opportunità e adesso ho comunque capito che durante il percorso si può cambiare molte volte l'indirizzo e quello che piace e alla fine interessa e poi sarà il lavoro futuro. Oggi che cosa fai? Oggi ho il piano di cominciare a lavorare a maggio e il mio contratto parte da maggio e lavorerò in ricerca e sviluppo quindi per un software di imaging nell'ambito medico. Qua nel territorio? A Imola, CEFLA. Torniamo indietro invece per parlare delle medie delle scuole secondarie di primo grado che hai concluso quando? Lo scorso anno, giustamente. Sì, sì, sì. E adesso invece che cosa frequenti? Faccio un liceo scientifico Cambridge. Invece per il futuro che cosa hai in mente? No, in realtà non ci ho ancora pensato però spero che questa squadra mi possa dare molti sbocchi per il futuro. Pensi di aver fatto la scelta giusta per il momento? Sì, per ora sì. Invece per il mestiere futuro ancora si dovrà vedere, valutare un po'... No, no. A Pesaro invece sono stati consegnati riconoscimenti del premio circolo della stampa a quattro persone che hanno conseguito particolari meriti in ambito sociale, culturale e imprenditoriale. Vediamo di chi si tratta nel prossimo servizio. Mercoledì 12 aprile si è svolta la 37esima edizione del premio circolo della stampa a Pesaro. La manifestazione, nata nel 1964, assegna riconoscimenti importanti ai pesaresi della provincia di nascita o di adozione che hanno conseguito particolari meriti in ambito sociale, culturale, imprenditoriale e sportivo. Il premio circolo della stampa a Pesaro da quest'anno si avvale del patrocinio del Ministero della Cultura oltre a quelli di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 dell'Ordine Nazionale e Regionale dei Giornalisti. Quattro i destinatari del premio 2023 Alice Acciarri, Viola Ceppetelli, Alberta Ferretti e Gianni Tangucci. Io sono tantissimi a più di 50 anni che non sono a Pesaro ho fatto la mia vita artistica sempre fuori tornando comunque a Pesaro con la famiglia finché c'erano vivi i genitori. È chiaro che mi ha fatto piacere, inaspettato mi ha fatto maggiormente piacere quando ho cominciato a ragionarci sopra perché sono stato sempre un po' a parte anche di tutte le manifestazioni pubbliche e così. Sono un uomo di teatro che è stato sempre in palcoscenico e dietro le quinte. È stata l'occasione per ripercorrere le fasi della mia vita perché ho dovuto fare un video così in tre minuti una sintesi di una vita artistica è stata un'impresa però è stato piacevole. Sì, sono molto orgogliosa ovviamente di ricevere questo premio sono una pesarese d'adozione ma insomma è sempre un momento molto bello quello di essere riconosciuti dalla comunità da cui si viene quindi è motivo di orgoglio essere riconosciuti con questo premio. È un momento speciale ma è per me speciale oggi perché sono qui a Pesaro un territorio che amo io nasco in questi luoghi e forse la fantasia che ho la creatività che ho è data proprio da questo territorio che è un territorio ricco d'arte, di cultura di passione, di artigianato e anche di umanità ed è per questo che sono rimasta a vivere su questo territorio anche se il mio lavoro mi porta in giro per il mondo e la mia azienda è qui è fatta di persone che hanno fantasia creatività come me hanno l'anima e sono umane e io più che chiamarla un'azienda la chiamo sempre la mia famiglia Mi fa molto piacere che mi venga riconosciuto questo premio per il lavoro di restauro che svolgo a Museo Vaticani e sono abbastanza emozionata quindi però sono molto contenta di questo riconoscimento Appuntamento al prossimo Il nuovo PRG, il piano regolatore generale di Fanno è pronto per essere presentato alla città con una serie di incontri pubblici nei singoli quartieri Dopo la prima presentazione agli ordini professionali il prossimo appuntamento sarà martedì 18 aprile l'incontro aperto alla cittadinanza e alle associazioni di categoria è fissato per le 17.30 al Fanno Marine Center Domenica 16 aprile dalle 10.55 in diretta su Rai 1 verrà trasmessa la Santa Messa dalla Cattedrale Santa Maria Assunta di Fanno la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Armando Trasarti sarà animata dal coro della Cappella musicale del Duomo di Fanno diretto dal maestro Stefano Baldelli la regia e il commento invece saranno affidati rispettivamente a Simone Chiappetta e Orazio Coclite a corredare le immagini della Santa Messa alcuni video realizzati nei luoghi più significativi della città una sentenza della Corte Costituzionale del 2020 ha attivato una vera e propria rivoluzione nei rapporti tra le istituzioni sociali e il terzo settore tutte le decisioni che vengono prese nell'ambito di competenza delle politiche sociali devono essere precedentemente concordate con il tessuto associativo di come deve essere applicata questa sentenza se ne parlerà in un convegno organizzato a Fanno dall'ACLI e da altre associazioni Massimo Foghetti Un'iniziativa molto importante un convegno nazionale che si tiene all'interno della fondazione e la conferma che questa rivoluzione di cui si parlerà in questo convegno è già iniziata in fondazione da un po' di tempo tra l'altro ci sarà anche un ulteriore momento importante per gli operatori del terzo settore anche il 9 di maggio perché ci sarà un altro convegno sul terzo settore che sottolineerà appunto l'importanza degli operatori a strutturarsi e ad adeguarsi a quella che oggi è una normativa molto innovativa che impone però a queste strutture che spesso sono fragilissime di strutturarsi, di organizzarsi di mettersi insieme e di fare un cambio di passo perché bisogna condividere anche con gli altri operatori che operano nello stesso ambito nello stesso territorio un'iniziativa che è certamente più impattante che è certamente più efficace rispetto a tante piccole attività che vengono fatte in modo episodico occasionale Uno degli esempi più importanti ancora in atto è quello del crowdfunding Sì, il nostro convegno del 9 di maggio proprio si inserisce in questo filone perché a giugno scadrà il bando per consentire agli enti del terzo settore che vorranno presentare dei progetti innovativi alla fondazione la fondazione ha messo a disposizione 100.000 euro e raddoppierà i fondi che questi soggetti saranno capaci di raccogliere sul territorio quindi questa è la garanzia anche per la nostra fondazione che i fondi che noi mettiamo a disposizione sono fondi che vanno nella direzione di progetti che hanno ricevuto la condivisione del territorio e che quindi danno risposte che le persone sentono che progetti che sono appunto validati dalla comunità Un convegno promosso dall'ACLI insieme alla fondazione Carifano alla fondazione Liberamente il CSV e il forum del terzo settore su tutte le innovazioni che la legge ha appunto introdotto per quanto riguarda la collaborazione delle associazioni con le istituzioni che si interessano dei servizi sociali il senso di questo convegno? Ma io dico solo questo nel luglio del 2020 la Corte Costituzionale ha approvato una sentenza che lo stesso Presidente della Corte Giuliano Amato ha definito storica la sentenza mette in capo una norma praticamente che da al terzo settore e alla pubblica amministrazione alla pari l'obbligo, diciamo, la finalità di sostenere il bene comune dei propri territori Come si calano nel territorio queste innovazioni che la Corte Costituzionale ha introdotto per quanto riguarda i rapporti appunto nei servizi sociali? Si applicano praticandole e si applicano provando a fare come si fa qui a Fano grazie alla spinta della fondazione delle ACLI del forum del terzo settore si prova a ragionare insieme su quello che è il caso di fare anche concretamente con la coprogrammazione delle attività di risposta ai bisogni del territorio e con la coprogettazione degli interventi l'ambito sociale 6 sta già facendo coprogettazione con diversi enti del terzo settore la fondazione con la sua proposta di crowdfunding va in quella direzione a livello nazionale ne succedono tante di queste prassi qualche regione ha già normato speriamo di riuscire anche noi a portarci al passo coi tempi il sindaco di Fano Massimo Serri ha ricevuto in comune la piccola Azzurra una bambina fanese di 10 anni che da sola si impegna a tenere pulite le nostre spiagge a prendersi cura dell'ambiente rimuovendo mozziconi di sigaretta bottiglie di plastica e altri rifiuti con un secchio guanti e forbici lavora per rimediare ai danni dei suoi concittadini toglie tutto ciò che trova e lo porta nei contenitori della differenziata quando mi hanno segnalato l'impegno di Azzurra ha commentato il sindaco Serri sono rimasto colpito è un'ambasciatrice della tutela ambientale è un esempio anche per i più grandi che senza preoccuparsi delle conseguenze e con grande maleducazione sporcano e inquinano Azzurra invece ci insegna che nei piccoli gessi troviamo il senso di grandi rivoluzioni che partono dal basso e da un profondo senso civico Fano è città delle bambine e dei bambini ha ricordato Serri e Azzurra ci porta un esempio concreto di come i più piccoli siano già cittadini del presente vi ricordo che domani pomeriggio alle ore 18 su Fano TV torna in diretta in salute scienza dimagrimento e ipertrofia saranno gli argomenti che tratteremo durante la puntata lunedì prossimo invece a primo cittadino sarà nostro ospite il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi come sempre potrete intervenire in diretta anche inviando un messaggio su Whatsapp il telegiornale termina qua tra poco trasmetteremo uno speciale della Confederazione Italiana Agricoltori dedicato alla zootecnia e subito dopo l'approfondimento politico insieme a Samuele Mascarin che ha condotto Stefania Schiaroli buona serata a tutti Grazie a tutti